La droga Salerno arrivava acquistata in Albania e Olanda ma anche oltreoceano a Panama in Brasile in modo autonomo senza legami con la criminalità organizzata in particolare di stampo partenopeo e quanto delineato nell'operazione El Fakir dal nome del referente internazionale che si occupava del traffico di droga con la quale la procura, la direzione distrettuale antimafia di Salerno e i della compagnia di Salerno hanno sgominato un'organizzazione composta da 25 indagati, 23 finiscono in carcere, due agli arresti domiciliari che a vario titolo sono coinvolti in un traffico internazionale di droga in modo particolare cocaina ma anche riciclaggio di proventi illeciti su una stima di fatturato di circa 20 milioni di euro in attività come pizzerie a Salerno a Puntelle ed una lavanderia sono state sequestrate nell'operazione ma anche creazione di società fittizie al fine di ricevere finanziamenti pubblici con Invitalia. Figura centrale nell'organizzazione è Fiorenzo Parotti a capo di quella che il colonnello dei carabinieri di Salerno ha definito una vera e propria holding per la struttura organizzativa costituita anche da sottogruppi in ambito provinciale ad Acerno ed Olevano sul Tusciano in grado appunto di avere rapporti relazionali con i broker internazionali in materia di stupefacenti senza l'appoggio di clan camorristici. Nell'operazione ancora una volta è emerso il ruolo del porto di Salerno dove per ben due volte si cerca di far arrivare container con droga e si ferma il traffico solo perché viene arrestato chi deve occuparsi del trasporto. L'operazione ha portato al sequestro di 165 mila euro al sequestro di orologi per un valore di 75 mila euro 20 chili di droga ed è stata complicata dall'uso da parte dei sodali di telefoni blackberry di più difficile intercettazione. Lo spaccio non riguardava solo la città di Salerno ma aveva canali anche nella provincia di Avellino. I carabinieri che hanno operato circa 300 si sono mossi anche nelle province di Brescia, Taranto, Parma e Firenze. Nel corso della conferenza stampa il procuratore Borrelli e il comandante dei carabinieri Trombetti hanno evidenziato la capacità del gruppo salernitano di gestire in autonomia il traffico di droga, cocaina ma anche amnesia e marijuana. Il nome dell'operazione El Fakir trae origine proprio dal canale di rifornimento. Nel seguire i movimenti di un broker internazionale di origine napoletana in contatto con diversi cartelli della droga era emerso il progetto di inviare una spedizione di cocaina all'interno di un container proveniente da Panama. Inizialmente era stato proposto il porto di Salerno ma poi si vira sulla Spagna non avendo società intermediare incaricate nel trasporto commerciale diretto con l'Italia.